Immagino che in questo momento vi starete chiedendo cosa sto facendo e ve lo dico subito, sono a caccia di Topi. Non sto seguendo una deratizzazione ma sono nel centro di Roma perché qui residenti e commercianti si lamentano della loro presenza. Tu hai mai visto Topi nella zona? Certo. Sono grosso un po', abbiamo visto un po' grosso così, lungo così, sempre dietro McDonald's e poi spastatura. Perché uno si vede qui vicino alla chiesa, insomma. Mi indica, mi fa vedere dov'è che li ha visti. Anche lì sopra, vicino alle colonne. Uno dei posti in cui i residenti e i commercianti denunciano la presenza di questi ratti è la famosissima Fontana di Trevi. Hai mai visto dei turisti che si lamentavano per la presenza di Topi oppure no? Qualcuno un po' spaventato, quando vede un Topi già correre in strada è subito spaventato. Ora ci lasciamo Piazza della Fontana di Trevi alle spalle e ci dirigiamo in Piazza della Rotonda che è un altro punto dove i residenti e i commercianti denunciano la presenza di ratti. Oltre a Piazza della Rotonda un'altra piazza colpita dai Topi è Piazza Navona. Eccoci arrivati. Topi? Mai. Non ce ne sono? C'erano di estate ma uscivano di là. Da dove? Aspetta eh. Di là. Ok. E tante volte correvano ma era di estate per il caldo magari. Sì guarda passare qui in piazza ma soprattutto nei mesi caldi ad agosto. Al centro si vedono però dentro al negozio no. Vi dà un po' di problemi con i turisti oppure no? No ma secondo me non ce ne sono tantissimi Topi qui in centro. Mai visto turisti spaventati? No perché di solito i Topi uscivano la sera quando chiudevamo. Ed eccoci infine in Piazza Navona. In Piazza Navona siamo stati meno fortunati. I ristoratori e i camerieri non hanno voluto parlare con noi. Abbiamo tentato di parlare anche con la signora della cartoleria tabaccheria che si trova da quella parte ma anche lei non ha voluto pronunciarsi. E a microfoni spenti ci ha addirittura detto sull'argomento preferisco non parlare. Altri invece hanno accettato di parlare con noi ma ci hanno detto che di Topi loro non ne hanno mai visti. No ce ne sono Topi. No. Mai zero. Tanti anni fa. A microfoni spenti siamo riusciti a parlare con due camerieri che lavorano in uno dei ristoranti che si affaccia su Piazza Navona che ci hanno detto che qui di Topi ce ne sono tanti. Insomma che di Topi ce ne siano tanti o che ce ne siano pochi che escano solamente di sera o che escano anche di giorno. Intanto chiamateli scemi. Anche loro preferiscono vivere nel centro città.